Buongiorno, oggi parliamo di tal Gab Lotter Tac, diretti Chi è Gab Lotter? Non lo so, sinceramente, non lo sa nessuno è sicuramente un utente di Youtube, immagino sia un ragazzo però magari potrebbe essere una signora di 80 anni, chi lo sa Scherzi a parte, questo utente è diventato famoso, se così possiamo dire, nelle ultime ore perché ha creato alcuni video che sono veramente geniali, deliziosi, veramente imperdibili e vi consiglio di guardarli, chiaramente vi metto qui sotto il link al suo canale praticamente questo genio è riuscito, non so bene come, poi dopo cerchiamo di arrivarci in qualche modo è riuscito a far cantare a Fabrizio De Andrè alcune delle più famose canzoni in circolazione dei più importanti, più celibri rapper e trapper italiani nello specifico ha riuscito a, diciamo, remixare in versione Fabrizio De Andrè tre pezzi che sono Habibi Di Gali, Trantran di Sfera e Basta e quello della Dark Polo Gang che è congelato che cosa ha fatto? praticamente lui ha preso, esattamente non so come l'abbia fatto però in queste canzoni c'è la voce di Fabrizio De Andrè che canta queste canzoni tendenzialmente questo tipo di video, quelli che diventano virali sul web sono dei mashup, dei copy and colla, dei collage in cui alcuni che hanno tanta voglia, veramente, si mettono a prendere delle frasi di, per esempio, politici è stato un caso molto celebre quello di Barack Obama che era stato doppiato in versione Carly Rape Jepsen o anche di Donald Trump che ha cantato non mi ricordo che canzoni e praticamente questi qua si sono messi a tagliare, a copiare e incollare i video e a mettere insieme in modo tale che sembrasse che Obama e Donald Trump stessero cantando delle canzoni pop in questo caso è una cosa un po' diversa perché c'è la voce di Fabrizio De Andrè che in un flusso continuo, senza interruzioni, da taglio in maniera estremamente naturale canta queste canzoni trap molto attuali, molto moderne ora, non so sinceramente come sia stato possibile tutto questo poi veramente scrivetemi nei commenti se sapete, se avete qualche idea a riguardo immagino, immagino che lui abbia, o lei perché potrebbe anche essere una lei io do per scontato che sia lui, ma chi lo sa abbia praticamente cantato o comunque trovato una persona che ha una voce molto simile a quella di Fabrizio De Andrè e gli abbia fatto cantare queste canzoni la cosa bella, interessante, non è soltanto la voce che sicuramente è molto bella perché è esattamente come quella di Fabrizio De Andrè ma quanto piuttosto il fatto che abbia creato delle melodie che ci stanno bene sulle canzoni appunto di Sfera, di Gali, della Dark Polo Gang e sia incredibile come canzone di Fabrizio De Andrè quindi col suo stile malinconico molto, passatemi il termine, pesante, triste insomma carico di emozioni, di emotività è una cosa molto bella una cosa molto bella perché dimostra da parte di questa persona un amore per la musica molto molto spiccato e appunto ovviamente qua poi sotto vi metto il link al canale in questione perché vale veramente la pena di ascoltare questi lavori sicuramente ne arriveranno cioè mi immagino che ne arriveranno degli altri nel corso delle prossime ore più che altro appunto sarei curioso di sapere come si è arrivati a questo risultato io purtroppo non sono un esperto di questo tipo di video quindi non vi so dire esattamente come sia stato possibile tutto questo ma poco importa alla fine a livello di intrattenimento non ha senso secondo me farsi troppe domande godiamoci questo lavoro perché è veramente una cosa molto bella molto interessante anche molto fine di classe soprattutto culturale ecco se mi passate il termine voi fatemi sapere cosa ne pensate di queste canzoni e se vi va iscrivetevi al mio canale mi raccomando iscrivetevi anche al canale di Gab Lotter che è veramente eccezionale e se va mi potete seguire anche sugli altri canali social che sono Zio Moro Reloaded su Facebook e Zio Moro su Twitter e Instagram e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao